salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme questa sciarpa stola a cui ho applicato anche le frange l'ho realizzata su commissione e ho voluto portarla sul canale per farvi vedere il progetto originale che già ho terminato quindi faremo un campione del punto e vi farò vedere anche come applicare le frange vi darò tutte le informazioni sulle misure sul quantitativo di lana che io ho utilizzato prima di presentarmi materiale e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina facebook e la mia pagina instagram passione uncinetto e lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto ho utilizzato questa lana lurex che è bravissimo della tessiland o l'ho lavorata con uncinetto numero 4 e ho utilizzato un paio di forbici prima di iniziare la lavorazione del punto che faremo con un'altra lana con un altro tipo di lana sempre lurex e vi volevo dare le informazioni su questa sciarpa la larghezza della sciarpa è di 37 centimetri la lunghezza è di un metro e 85 quindi è una sciarpa molto grande e la lunghezza è calcolata da estremità ad estremità quindi non calcolando le frange le frange sono lunghe circa 12 centimetri quindi ho utilizzato 480 grammi di lana ora possiamo procedere all'esecuzione del punto e quindi della sciarpa e vi dirò anche le misure con del progetto originale quindi inizieremo noi faremo un campioncino però le misure dell'originale vi dirò precisamente con quante catenelle ho avviato la lavorazione prendiamo questo tipo di lana guardate anche questa una lana lurex e iniziamo la lavorazione quindi il progetto originale la sciarpa io l'ho iniziata con 63 catenelle più una quindi dobbiamo fare un multiplo di 3 quindi se la volete o più grande o più piccola dovete diminuire o avanzare di 3 catenelle nel caso del campioncino iniziamo con il cappietto e realizziamo 30 catenelle che è un multiplo di 3 fatte le nostre 30 catenelle aggiungiamo una catenella e poi iniziamo la lavorazione facciamo ci rialziamo con 3 catenelle filo sull'uncinetto contiamo 123 e nella catenella che abbiamo aggiunto realizziamo il nostro primo punto puff quindi tiriamo la prima il primo gettato prendiamo il filo sull'uncinetto entriamo nello stesso punto e facciamo il secondo facciamo il terzo e facciamo il quarto quattro gettati sull'uncinetto prendiamo il filo lo facciamo passare e ci chiudiamo con una catenella e abbiamo creato guardate queste sono le tre catenelle e il primo punto puff filo sull'uncinetto contiamo 1 e 2 catenelle di base ed entriamo nella terza catenella e realizziamo una maglia alta filo sull'uncinetto entriamo nello stesso punto e realizziamo il punto puff quindi primo gettato secondo terzo e quarto facciamo passare il filo in tutte le asoline e chiudiamo con catenella così filo sull'uncinetto 1 2 entriamo nella terza catenella facendo una maglia alta quindi dobbiamo lavorare saltando le due catenelle di base maglia alta e punto puff saltiamo due catenelle maglie alte punto puff e continuiamo così fino ad arrivare alla fine questo lo completiamo abbiamo fatto la maglia alta e nello stesso punto facciamo il punto puff 2 3 e 4 ci chiudiamo ma catenella e continuiamo così arrivati qui alla fine abbiamo 1 2 3 catenelle saltiamo le due prendiamo il filo sull'uncinetto e nell'ultimo punto facciamo solo la maglia alta così quindi qui terminiamo solo con la maglia alta facciamo 3 catenelle voltiamo il lavoro ed entriamo direttamente in questo spazio facendo il punto puff quindi 1 2 3 e 4 chiudiamo e chiudiamo con una catenella così senza catenella di separazione entriamo guardate nello spazio fra il punto puff e la maglia alta qui e facciamo la maglia alta quindi la lavorazione è sempre uguale e il punto puff quindi torniamo indietro facendo così chiudiamo con catenella e stiamo facendo la lavorazione inversa del primo giro filo sull'uncinetto entriamo in questo spazio del gruppetto e facciamo prima la maglia alta e dopo sempre il punto puff quindi 1 2 3 e 4 chiudiamo e chiudiamo e serriamo con la catenella e continuiamo così fino ad arrivare alla fine arrivati qui alla fine abbiamo fatto l'ultimo punto puff ora abbiamo qui la parte iniziale qui ci dobbiamo chiudere solo con la maglia alta quindi facciamo la maglia alta come vi siete ben accorti chiudiamo con la maglia alta però iniziamo col punto puff perché da qui ci realizziamo sempre con le 3 catenelle 1 2 e 3 voltiamo il lavoro ed entriamo direttamente nel nello spazio nel primo spazio e facciamo il punto puff 2 3 e 4 chiudiamo tutto insieme e chiudiamo con una catenella ed ora entriamo guardate sempre nello spazio delle del gruppetto precedente facendo sempre una maglia alta prima è un punto puff formato da quattro gettati dopo così se voi ci fate caso questo va di qua e già la lavorazione va così e qui ci ritroveremo punto puff spazietto punto puff la stessa cosa è da questa parte spazietto punto puff e poi spazietto perché qua alla fine chiuderemo con una maglia alta e comincieremo il prossimo giro con un punto puff quindi tre catenelle il punto puff nel primo spazio quindi un punto veramente semplice da fare che potete fare tranquillamente davanti alla televisione mentre vi guardate anche un film perché poi è una conseguenza non ci sono conteggi da fare e quindi non c'è difficoltà continuiamo facciamo qualche altro punto insieme maglia alta punto puff 3 e 4 facciamo passare e chiudiamo filo sull'uncinetto entriamo sempre nello spazietto maglia alta arrivati qui alla fine entriamo in questo spazio dell'ultimo punto puff chiudendoci solo con maglia alta ci realizziamo con tre catenelle voltiamo il lavoro ed entriamo qui nel primo spazietto facendo direttamente il punto puff e continuiamo qui nel primo spazio a fare sempre maglia alta e punto puff quindi molto molto semplice come punto e soprattutto molto lineare guardate ho fatto un pezzetto di lavorazione e ci accorgiamo che è perfettamente dritta dai lati perché seguiamo sempre questa lavorazione guardate qui nell'originale punto puff spazietto punto puff spazietto però vi viene una conseguenza da fare è proprio la lavorazione che ve lo richiede quando arrivate qua guardate a fine lavoro qui dovete lavorare la maglia alta vi rialzate con le tre catenelle e riniziate nel primo spazietto che si crea col punto puff e continuate a lavorare nello spazietto del gruppetto la stessa cosa quando arrivate qui alla fine chiudete con la maglia alta e vi rialzate con le tre catenelle e il punto puff quindi molto molto semplice capito un pochino il punto ora ci occuperemo delle frange quindi prendiamo l'occorrente per creare le frange della nostra sciarpa allora prendo un bloc note se voi potete prendere un libro oppure un cartoncino appoggio il la lana e comincio a girare quindi così e lo faccio per tante volte pure se non vi bastano non mi interessa perché al momento che avete terminato i vostri fili per per fare le frange lo rifate tranquillamente in questo modo prendiamo le forbici e tagliamo quindi tagliamo il filo qui perché vi viene semplice perché potete rientrare all'interno del in questo caso io ho un bloc note se però voi potete utilizzare un libro all'interno dove ci sono le pagine e tagliare la lana quindi vi verrà tagliata tutta della stessa misura ecco levate i fili quelli là di inizio e fine guardate e abbiamo la lana tutta di una misura ora siamo pronti per applicarla al lavoro prendiamo la lavorazione e l'uncinetto prendiamo prendiamo tre fili di lana prendiamo questi tre e li mettiamo a metà così prendiamo la lavorazione in questo modo entriamo in questi spazi che si sono creati fra i gruppetti e qui andremo ad applicare le nostre frange quindi entriamo nel primo prendiamo con l'uncinetto i tre fili e li tiriamo dopodiché con l'uncinetto stesso passiamo i fili nel foro che si è creato guardate stringiamo e creiamo il nodino al tempo stesso abbiamo agganciato guardate questo era il filo di inizio lavoro l'abbiamo agganciato direttamente nella prima frangia continuiamo prendendo altri tre li facciamo sempre a metà così li sistemiamo in questo modo entriamo con l'uncinetto nel foro li prendiamo e ce li tiriamo all'interno e li agganciamo con l'uncinetto stesso così facendoli passare stringiamo e già è la seconda frangia e continuiamo in questo modo prendendo a tre a tre i fili e agganciandoli tutti nei vari bughetti della sciarpa e questa è la formazione appunto delle frange questa la possiamo fare più o meno lunga a nostro piacimento e possiamo mettere anche più fili a posto di tre ne potete mettere qualcuno in più oppure li potete fare anche a due fili quindi più diciamo piccole ho terminato la spiegazione di questo piccolo campione facendovi vedere il punto e l'applicazione delle frange e quindi anche come crearle questo è il progetto originale che vi assicuro che è veramente molto bello ed è soffice perché comunque è un punto soffice tanto che è come una nuvola probabilmente questo progetto lo chiamerò sciarpa stola nuvola proprio per il filato utilizzato e per il punto soprattutto per il punto utilizzato spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video